Noi siamo una squadra, io rappresento una squadra, questo programma l'abbiamo sottoscritto tutti quanti ed è un impegno che tutti noi prendiamo questa sera nei confronti di tutta la comunità di Castellabate. Faremo la differenza, la nostra amministrazione sarà improntata sulla trasparenza e sulla partecipazione dei cittadini. Ha esordito così il candidato sindaco Marco Rizzo lunedì sera in occasione della presentazione ufficiale del suo programma amministrativo presso Piazzale Punta dell'Inferno alla presenza di oltre 500 spettatori. Prima di passare alla presentazione dei suoi candidati Rizzo ha spiegato la filosofia della lista. Questa è una squadra composta da professionalità, da giovanissimi, da persone con esperienza, da persone che sul campo si sono fatte valere. Bisogna guardare avanti, questo è il nostro motto e il nostro principio. Per questo la lista si chiama Castellabate Rinasce. I candidati della lista Castellabate Rinasce, determinati e pronti a mettersi in gioco, si sono presentati individualmente con un breve discorso e sono Marianna Carbutti, assistente sociale, Dalila Russo, avvocato, Luigi Maurano, professionista, Nicoletta Guariglia, imprenditrice, Gianmarco Rodio, imprenditore, Luigi Infante, pescatore, Adele Ippolito, dottore commercialista, Clemente Migliorino, consulente previdenziale e fiscale, Gennaro Lapastina, medico, Antonio Florio, libero professionista, Raffaele Di Gregorio, segretario alberghiero, Domenico Piccirillo, docente in pensione. Abbiamo bisogno di riprogrammare Castellabate nella sua interezza, dichiarato Marco Rizzo, non faremo niente senza un consenso e una condivisione del cittadino. Per noi il cittadino è il fulcro di quella che sarà la nostra politica, il nostro programma avrà la missione di individuare e risolvere le criticità, sviluppando le opportunità. Con queste parole Marco Rizzo ha introdotto il suo programma elettorale, dall'idea di ridurre i tributi per far ripartire l'economia del paese, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, a rendere più efficiente la viabilità adottando un piano urbano integrato, politiche sociali in grado di supportare le fasce più deboli, fino a garantire la sicurezza attraverso la prevenzione di fenomeni di allarme sociale e infine destagionalizzazione del turismo. Una pagina si chiude dopo dieci anni e noi siamo la nuova pagina che si deve aprire per scrivere una storia nuova e diversa dalla precedente. A concluso Rizzo, vogliamo insieme a voi scrivere il futuro da qui in avanti.